mi consegno questo messaggio mi auguro questo messaggio cambi realmente la tua vita ce la farei vai alla grande e vai alla grande bene allora possiamo dire che possiamo partire con la cena i ritardatari mangeranno dopo cosa devo dire? vediamo dopo arriva a nord io guarda che io disposto a domicili si esatto l'ha sempre detto sempre detto così qualcuno dovrebbe ancora arrivare vediamo allora numero vediamo un po' numero 8 chi è la numero 8 ragazzi? messaggio eccola qua la numero 8 perfetto vai ciao come ti chiami? come ti chiami? maria 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 a dove vincere? orgiate con orgiate con che dopo? chi è la numero 9 le vincere con le vincere con le vincere con Grazie.